Angela Maria Costa, Rarinante Scagliari, corsia 5, Mira Guglielmi, Amici Nuoto, Vigili del Fuoco Modena, corsia 6, Franca Dell'Omo, Flaminio Sporting Club, corsia 7 per Laura, Lusito Pauci, Rarinante Savona, corsia 8, Franca Paroni, Amatori Nuoto Savona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E benvenuti, benvenuti a tutti coloro che gareggeranno questo pomeriggio, benvenuti nell'impianto dello Stadio del Nuoto, qui proprietario del Comune di Bari, gestione Polisporto. Organizzazione dell'evento curata dallo Sharks Academy, ringraziamo gli altri enti istituzionali, la Regione Puglia, la Provincia di Bari, la Camera di Commercio, l'Use Artigianato, l'Iconi Regionale Pugliese, l'Iconi Provinciale di Bari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.